Giro di scommesse clandestine scoperto dalla Guardia di Finanza a Palermo, 11 le persone arrestate, a gestire le fila ci sarebbe la mafia, in manetta anche Giovanni Pecoraro, già allenatore del settore giovanile del Palermo. Non arriva la convocazione del governo regionale per affrontare l'emergenza rifiuti e i 12 sindaci del lato rifiuti Palermo 1 decidono di consegnare le fasce tricolore al prefetto di Palermo. Protesta dei sindaci a Palazzo dei Normanni chiedono il ritorno alla gestione pubblica dell'acqua, scioperano anche i dipendenti di Max Living. Giardinello, l'amministrazione comunale del neosindaco Giovanni Gelosa approva un nuovo piano triennale delle opere pubbliche e è stato adeguato al programma elettorale del neoprimo cittadino. Buonasera e bentrovati con l'informazione di TV7. Le mani dei boss dunque anche nelle scommesse sportive a Palermo lo hanno scoperto i magistrati della direzione distrettuale antimafia che hanno coordinato l'inchiesta sfociata all'alba di oggi nell'esecuzione di 11 ordinanze di custodia cautelare e l'arresto di 10 persone in carcere. Anche nomi eccellenti come Giovanni Pecoraro, ex dirigente sportivo delle giovanili del Palermo Calcio. Le 10 ordinanze di custodia cautelare sono state notificate questa mattina dai finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria di Palermo. Vediamo gli altri particolari nel servizio. 11 persone sono state raggiunte oggi a Palermo da un'ordinanza di custodia cautelare. Ad eseguire i provvedimenti è stato il nucleo di polizia valutaria del capoluogo siciliano. Dopo accurate indagini è stato disarticolato un giro di scommesse clandestine ritenuto dagli inquirenti manovrato dalla lunga mano della mafia. L'operazione, che è stata denominata Dirty Bet, è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia. I capi d'accusa per gli arrestati sono di esercizio del gioco clandestino e di intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato la mafia. Fra gli arrestati è anche un nome illustre, quello dell'ex responsabile del settore giovanile del Palermo Giovanni Pecoraro, che era stato arrestato già quattro anni addietro con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Il caso, però, era stato archiviato su diretta richiesta della procura. Pecoraro, secondo gli inquirenti, avrebbe fatto da prestanome ad esponenti di spicco di Cosa Nostra legati al mandamento di San Lorenzo ed in particolare ai boss Salvatore e Sandro Lopiccolo. Le scommesse illegali hanno accertato le indagini dei finanzieri, generavano un profitto giornaliero di oltre 3.000 euro che andava a rimpinguare le casse della criminalità organizzata. E cambiamo adesso argomento, ci occupiamo di emergenza rifiuti. Consegneranno le fasce tricolore al prefetto di Palermo per protestare contro la mancata convocazione da parte del governo regionale. L'iniziativa è dei 12 sindaci dei comuni del lato rifiuti Palermo 1. Intanto sulla situazione generale della società d'ambito ne abbiamo parlato con il commissario liquidatore, l'avvocato Antonio Geraci. I 12 sindaci dei comuni del lato rifiuti Palermo 1 in segno di protesta consegneranno le fasce tricolori al prefetto. La clamorosa iniziativa sarà attuata il prossimo 4 giugno per manifestare tutto il disappunto per la mancata convocazione dei primi cittadini da parte del governo regionale, richiesta il 7 maggio scorso con l'obiettivo di affrontare il sempre più grave problema della mancanza di liquidità degli enti costretti a pagare i costi dei servizi alla scadenza della sostituzione commissariale. A prefetto i primi cittadini illustreranno la situazione igienico-sanitaria dovuta ai disservizi per la raccolta dei rifiuti. Sulla situazione attuale dei rifiuti nel territorio abbiamo fatto il punto col commissario liquidatore, avvocato Antonio Geraci. Non è cambiato sostanzialmente nulla, se non qualche versamento di qualche piccolo comune diciamo che ci ha versato nelle nostre casse qualche centinaio di euro ma che certamente dicono non ci consentono di poter pensare o di poter coprire le spese che mensilmente la società deve affrontare. Parliamo di poco più di 2 milioni di euro mensili. Quando ne arrivano 200, 300, anche 400 mila si rende conto che non è una situazione sostenibile. per cui dico dal giorno 7 quando scadrà l'intervento sostitutivo da parte della regione a meno che non si riversino nelle casse del lato qualche milioncino di euro è ovvio che non potremo sostenere e la società non potrà sostenere i costi mensili. Notizia di oggi dell'introduzione in finanziaria del passaggio degli ato a SRR. però resta sempre il dubbio su chi coprirà quelli che sono i debiti pregressi. Questo è un altro problema. In realtà le SRR sono già previste nella legge 9 del 2010 per cui non è una novità da questo punto di vista. È soltanto un ritorno di fiamma direi io, che sembrava in un primo momento essere stata accantonata in quanto i comuni non avevano provveduto a costituire l'SRR. Mentre adesso sembrerebbe che ci sia un obbligo specifico appena il commissariamento dei comuni di costituire entro il 30 giugno, questo come termine ultimo, le società che dovrebbero sostituire gli ato. Per cui teoricamente, secondo quello che dice la legge, dal 1 luglio la gestione non dovrebbe essere più degliata o quantomeno non dovrebbe essere più a carico dei commissari liquidatori, ma queste benedette società per la regolamentazione dei servizi di raccolta dei rifiuti. Però questo ancora credo che nessun comune si stia muovendo. Quindi non so che tipo di attuazione pratica potrà avere. Polemico l'assessore del Comune di Partenico Bartolo Parrino sulla delibera relativa al bilancio di previsione. Da questo punto di vista cosa può dire? Guardi, io non voglio entrare in polemico con nessuno. Mi sembra strano che faccia certe affermazioni, almeno da quello che leggo dai giornali, anche perché l'assessore Parrino già da qualche mese non era più abilitato a tenere rapporti con lato, perché i rapporti con lato vengono intrattenuti direttamente dal sindaco. Quindi mi sembra, forse vuole fare lui polemica, io non ne voglio fare. Il bilancio 2010, a quello che lui si riferisce, è stato regolarmente approvato in assemblea. Probabilmente lui si riferisce alla non approvazione del budget previsionale 2012 che ogni anno l'ato invia entro il 30 settembre. Probabilmente si riferisce a questo. Ma al di là, oltre questo non credo che ci siano rapporti tesi con il Comune Partinico, così come con gli altri sindaci e con tutti gli altri comuni, sono i rapporti normali di rapporti istituzionali che vengono intrattenuti. Per cui questa polemica di con la faccia, con chi la vuole fare? Con me? Non cado in questi tipi di tranelli che a me non riguardano. Intanto questo stato di incertezza crea ovviamente malumori, crea tensione tra il personale ma anche tra i sindaci. A quanto pare stanno organizzando un'iniziativa per il prossimo 4 giugno. Sì, sembrerebbe appunto che è ovvio che per primo il personale non si sente giustamente tutelato, vive in una situazione di incertezza, specialmente i lavoratori interinali. Per cui dico qualche malumore già comincia ad affiorare. I sindaci, sì, questa iniziativa che è partita a quanto pare come capofila dal Comune di Carini, con firmatari tutti, Partinico e tutti gli altri sindaci, sembrerebbe che giorno 4, 4 giugno lunedì prossimo, debbano consegnare simbolicamente le fasce tricolori in prefettura. Per cui questa manifestazione potrà essere, se avrà ovviamente, spero di sì, avrà un significato anche per quello che dicevamo poc'anzi, cioè evitare che dal giorno 8 giugno, quando scade l'intervento sostitutivo da parte della Regione, i comuni che non hanno soldi possano trovarsi in situazioni di emergenza e quindi affrontare un'estate con l'immondizia, dico non è, specialmente per i comuni della nostra costa, dico i costieri, non è certamente una bella cosa. E altra protesta dei sindaci, ma questa volta davanti a Palazzo dei Normanni i primi cittadini chiedono il ritorno alla gestione pubblica dell'acqua. Come già annunciato, questa mattina i sindaci di molti comuni siciliani hanno protestato davanti la sede dell'Assemblea regionale a Palermo per chiedere l'immediata approvazione del disegno di legge per la gestione pubblica delle reti idriche. Il disegno si trova già in Commissione Camerale ed esprime l'esito del referendum di un anno fa. Occorre semplicemente l'approvazione nell'ambito regionale. Ai nostri microfoni ha parlato il sindaco di Menfi, Michele Botta, primo firmatario della legge di iniziativa popolare. Ci stupisce doversi trovare ancora oggi qui a protestare, dopo tante proteste negli anni precedenti, nei mesi precedenti e dopo un risponso elettorale, quello sul referendum che ha visto quasi la totalità dei siciliani e non solo, tutti gli italiani dire no all'acqua privata. Noi abbiamo una legge per la ripubblicizzazione dell'acqua già presentata, già andata in quarta Commissione, che aspetta soltanto di essere votata. Siamo qua in prima stanza per sollecitare, prima che questo governo giunca alla sua fine, per evitare che una vacazio possa impedirci e ci possa portare in una situazione di stallo in cui nessuno avrà responsabilità. Noi vogliamo che chi c'è oggi si prenda le sue responsabilità e voti questa legge che tutti nei mesi precedenti ci hanno detto che concordamente avrebbero votato. Poi alcuni comuni, specialmente quelli della provincia dell'Agrigento, il mio comune e il comune di Menfi, siamo in atto sotto diffida da parte del Presidente del Lato che ci impone di dover consegnare le reti alla società che praticamente ha vinto l'appalto. Per cui noi siamo qua per chiedere anche la sospensione delle diffide per permettere a questa legge di essere votata e poi successivamente vedere se questa legge è votata di riportare l'acqua nei comuni dove sicuramente è gestita molto, molto, ma molto meglio di quanto non faccia il privato. Ed è stata una giornata di protesta anche per i lavoratori del gruppo Livorsi questa mattina a Palermo davanti al punto vendita Max Living di Viale, regione siciliana. Il perché dello stato di agitazione di questi lavoratori ce lo spiega Giuseppe Aiello della Filcams CGL. Le motivazioni del sit-in sono dovute al fatto che l'azienda Electromarket Livorsi continua intanto a non volere relazioni sindacali, a non mantenere corrette relazioni sindacali. Di fatti oggi qui i lavoratori sono qui per chiedere quali sono le motivazioni della mancata turnazione intanto della cassa integrazione. Quindi sono sempre gli stessi, quasi come ad essere discriminati a fare la cassa integrazione a zero ore, mentre chiudono altri punti vendita dove c'è gente che non ha fatto neanche un'ora di cassa integrazione, viene trasferita su questo punto vendita continuando a lavorare. L'altra motivazione, quella più importante, è che la Electromarket Livorsi da qualche mese ha messo, che è quella più importante, fra l'altro ha messo da qualche mese l'azienda in liquidazione e cessazione di attività. Ciò comporta il licenziamento di almeno 200 lavoratori, lavoratori gravati soprattutto da mutui, da carichi familiari perché siamo tutti quei lavoratori che hanno oramai 40 anni eppure difficilmente ricolocabili. Si sente di trattative da parte dell'azienda con possibili acquirenti, ma l'azienda non parla ancora chiaro riguardo a queste trattative. L'amministrazione comunale di Giardinello ha deliberato il primo atto operativo della nuova gestione della cosa pubblica. Il neosindaco Giovanni Geloso ha provveduto a integrare il piano triennale delle opere pubbliche adattandolo al proprio programma elettorale. Una piscina intercomunale da realizzare col comune di Montelepre, l'ampliamento della rete metanifera, il miglioramento della pubblica illuminazione attraverso un sistema di risparmio energetico ed ancora pannelli solari in tutte le strutture pubbliche, compreso il campo di calcio. Sono alcune delle novità contenute nel piano triennale delle opere pubbliche 2012-2014, approvato dalla nuova amministrazione comunale di Giardinello, guidata dal sindaco Giovanni Geloso. E' questo il primo atto deliberativo del nuovo esecutivo dopo la distribuzione delle delega agli assessori. Le novità riguardano pure il piano annuale in corso. Il programma delle opere pubbliche comprende tutte le idee progettuali di importo superiore ai 100.000 euro e sono quelle che l'amministrazione comunale di Giardinello intende realizzare nel futuro e che ritiene necessari per la comunità. L'aggiornamento dell'elenco delle opere da realizzare si è reso necessario per adeguarlo al programma del neoeletto sindaco alle elezioni amministrative dello scorso 6 e 7 maggio. Le opere previste nel piano spaziano in diversi settori che riguardano l'edilizia, la viabilità, l'ambiente, la difesa del suolo, il turismo, lo sport, l'agricoltura e l'acqua. In ogni settore, spiegano dall'ufficio tecnico, sono elencate in ordine di priorità le opere che si intendono realizzare andando come ordine di priorità dagli interventi di manutenzione straordinaria a quelli di recupero dell'esistente a quelle di completamento per finire con le nuove opere. Nel settore dell'edilizia, ad esempio, sono previsti interventi rivolti a preservare il patrimonio edilizia esistente con interventi di manutenzione, di recupero e di completamento. Inoltre, sono previsti interventi di nuove costruzioni in ampliamento o soprelevazione di edifici già esistenti. Maxi sequestro di Tonno Rosso in tre diverse operazioni nel Palermitano. Maxi sequestro di Tonno Rosso a opera degli uomini della Capitaneria di Porto di Palermo in collaborazione con gli uffici marittimi dipendenti di Terrasini, Termini Mierese e Cefalù e con la collaborazione dei carabinieri di Carina e della squadra nautica della Questura di Palermo. Nel corso degli ultimi giorni, in tre diverse operazioni, sono stati sequestrati complessivamente 7.500 kg di Tonno Rosso per un valore complessivo superiore a 60.000 euro. La Capitaneria sottolinea che la cattura di tale prodotto ittico è consentita, secondo un rigido sistema di controllo, a favore di un numero ristretto di imbarcazioni in possesso di permesso speciale. Il commercio illegale di Tonno Rosso, oltre a provocare una diminuzione dello stock ittico, comporta altresì il mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei prodotti ittici, nonché palesi violazioni in materia igienico-sanitaria, evasione fiscale e danno economico agli operatori della pesca che svolgono le attività della pesca del Tonno Rosso nel rispetto delle regole. Sono stati sanzionati motopesca, furgoni, ambulanti, imprese di pesca e sono stati elevati i verbali e amministrativi per 4.000 euro a 4 operatori. Incendio questa notte all'interno dell'hotel Porto Rice di Cinisi. La struttura, sequestrata anni fa dopo il fallimento e chiusa al pubblico da circa due anni, è andata quasi completamente distrutta. Le fiamme si sono sviluppate intorno a luna nella hall dell'hotel, ormai abbandonato e hanno coinvolto quasi tutta la struttura. Quattro squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato allo spegnimento del rogo per oltre cinque ore. Le indagini sulle origini dell'incendio sono condotte dai carabinieri della compagnia di Carini. Ancora da accertare se si tratta di un rogo doloso o accidentale. Nel 2009 in due furono arrestate all'interno dell'hotel. Stavano tentando di rubare gli infissi. La Ansaldo Breda, ex Imesi di Carini, ha bisogno di 40 montatori meccanici ed elettrici e verniciatori per il rivamping di 300 vecchie carrozze ferroviarie di Treni Italia. L'ex Imesi di Carini è stata letteralmente invasa da una commessa di circa 300 vecchie carrozze di Treni Italia da bonificare dall'amianto e ristrutturare. L'organico di 160 operai è insufficiente a sviluppare la commessa con celerità, elemento fondamentale assieme all'efficienza per non rimetterci in questa tipologia di lavoro a basso valore aggiunto. Per questo, piuttosto che rincorrere a ditte esterne a basso costo ma a qualità inferiore, l'azienda vorrebbe reclutare da 30 a 40 figure professionali specializzate con non contratti a termine o interinali della durata da 3 a 6 mesi. Si tratta per lo più di montatori meccanici, montatori elettrici e verniciatori. Si attende solo l'ufficialità da parte del capogruppo Ansaldo Breda con la visita giovedì prossimo alla fabbrica da parte della D. Maurizio Malfellotto, cui i sindacati intendono rimarcare la necessità di rendere lo stabilimento efficiente così come previsto dal piano industriale presentato lo scorso mese di gennaio e ora al vaglio del probabile nuovo socio, il gruppo giapponese Itachi. Non è un caso, spiega Andrea Vitale, segretario della Wilm Will, che in questi giorni siano già arrivati di rinforzo 14 operai dell'Omeca di Reggio Calabria che in questo momento ha poco lavoro ma che dovrà dividere con carini l'intera commessa di revamping di 2.000 vecchie carrozze di Trenitalia. Ansaldo Breda deve comprendere che occorre organizzare le attività concentrando tutto negli spazi disponibili e con la maggiore forza lavoro possibile al fine di ridurre i costi di gestione e aumentare i ricavi. E questo è possibile soltanto con un temporaneo potenziamento dell'organico. In attesa che Ansaldo Breda si pronunci sulla richiesta dei sindacati di riacquistare l'aria a suo tempo ceduta alla confinante Keller e che si concluda la procedura di messa e liquidazione di questa società i capannoni dell'eximesi sono stati attrezzati per ridurre le emissioni di amianto nell'ambiente. Problema questo che aveva reso necessario il ricorso a ditte esterne. Il commissariamento del Partito Democratico siciliano lo chiedono a gran voce i giovani del PD soprattutto dopo l'esito dell'Assemblea regionale che praticamente ha estromesso da ogni decisione i delegati giunti da ogni parte dell'isola. Visto l'esito dell'Assemblea regionale del Partito Democratico dove ancora una volta di fatto è stato mortificato il dibattito ed ha zerato ogni possibilità di partecipazione democratica chiediamo l'immediata convocazione dell'Assemblea alla presenza del segretario nazionale Pierluigi Bersani per aprire un confronto vero e costruttivo sul futuro del partito nella nostra regione e quanto scrive in una nota Marco Miceli responsabile legalità dei giovani democratici di Palermo stiamo già raccogliendo firme e adesioni a sostegno di un documento politico da noi redatto aggiunge Valentina Falletta responsabile scuola e università per il Partito Democratico dove chiediamo l'immediato commissariamento del Partito Siciliano che abbia come obiettivo quello di condurci nel minor tempo possibile verso una nuova fase congressuale per il grande amore che nutriamo per il Partito Democratico continua Falletta questa volta siamo disposti ad utilizzare ogni mezzo di pressione affinché le nostre stanze siano quantomeno oggetto di una reale discussione il risultato elettorale negativo del Partito Democratico così legge nel documento rende indispensabile ed urgente una ridefinizione della linea politica ed un profondo rinnovamento del Partito che lo riconnetta al progetto originario e sia in netta discontinuità con quanto accaduto fino ad oggi tutto il contrario di soluzioni pasticciate e di accordi di potere quali la costituzione di un organismo che vedrebbe presenti coloro che a diverso titolo e nei rispettivi ruoli hanno contribuito al disastro elettorale siglato un protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e il Dipartimento degli Affari Regionali del Consiglio dei Ministri vediamo nei dettagli di cosa si tratta in questo servizio i contenuti del protocollo d'intesa tra il Dipartimento degli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana per il rafforzamento della capacità istituzionale delle regioni e degli enti locali nelle aree obiettivo-convergenza sono state illustrate ieri durante l'incontro tra l'assessore regionale per l'economia Gaetano Armao e il dirigente generale del Dipartimento degli Affari Regionali Antonio Caponnetto Quali sono i contenuti di questo accordo che Regione Siciliana e Ministero andranno a definire quanto prima? È un progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo con il quale ci proponiamo di creare un affiancamento tra le finanziarie di alcune regioni del centro nord che hanno tanti anni di esperienza e buoni risultati nel campo della gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria e le finanziarie delle quattro regioni dell'obiettivo-convergenza Sicilia, Calabria, Campania e Puglia realizzare non un'attività di formazione ma un'attività di affiancamento operativo consentire quindi uno scambio di esperienze creando dei team che possano lavorare fianco a fianco in modo da importare alcuni strumenti e adattarli al contesto del territorio L'intesa della regione sicuramente è previnente perché come voi sapete la finanziaria l'IRFIS è da poco e al 100% della regione e diciamo le cose che si vogliono realizzare in collaborazione con lo Stato rientrano proprio nella mission propria della finanziaria gli strumenti innovativi di finanza sono assolutamente indispensabili in un settore dell'economia quale quello siciliano dove c'è la crisi in combe da diversi anni abbiamo necessità di affiancare agli strumenti tradizionali che spesso non hanno avuto il risultato sperato nuovi strumenti e su questo l'IRFIS è impegnato a diverso tempo basti pensare poco fa che facciamo ad esempio degli strumenti di finanza con fondi rotativi dove l'IRFIS ha diversi anni e utilizza questi strumenti ma che anche lì tutto sommato con una collaborazione con altri finanziari e con lo Stato potremmo trovare delle metodologie più efficienti e più efficaci rispetto agli obiettivi che noi abbiamo una manifestazione per chiudere il progetto dedicato alla legalità protagonisti gli studenti di Partinico il progetto è stato realizzato in rete tra l'Istituto Privitera il primo circolo didattico e l'Istituto Tecnico dalla Chiesa musica, balli, giochi tutto incentrato sull'educazione alla legalità questa mattina a Partinico ultimo atto del progetto diritti e doveri tutti insieme a Legalandia è un tanto un progetto di legalità finanziato dall'assessorato regionale con la legge 20 questa è una rete che è il terzo anno consecutivo che abbiamo finanziato il progetto Legalità insieme con il primo circolo didattico di Partinico e l'Istituto Carlo Alberto dalla Chiesa il Privitera è capofila il senso è stato della progettazione quello di fare una giornata dove il gioco, nel gioco, nelle relazioni ci sia la parola diritti, doveri e legalità perché la legalità entra nel quotidiano dove è meglio del gioco che è l'espressione più sincera dei ragazzi e allora le scuole si sono impegnate nella realizzazione di attività ludiche potete vedere cruciverba, giochi linguistici gioco dell'oca, olimpiadi della Costituzione dove trovate appunto i termini della legalità devo dire che è stata molto bella allietata anche dalla musica che accompagna le attività dalle performance di balletto e abbiamo, c'è stata una comunione di intenti appunto con queste due scuole e ringrazio intanto il sindaco che ci ha messo a disposizione il Palazzo del Carmine e la Polizia Municipale e il Commissariato che hanno permesso la chiusura momentanea del traffico in questa piazza e quindi i ragazzi si sono potuti esibire e tutto all'insegna della legalità che è il nostro pane quotidiano Un'occasione per questi ragazzi di dimostrare insomma quelle che sono le loro capacità nei diversi campi Senz'altro i ragazzi hanno partecipato benissimo anzi abbiamo visto addirittura il recupero di certe abilità con le attività ludiche La Seirit annuncia la drastica riduzione dei turni di apertura dello sportello di Partinico ed è subito protesta Oggi il sindaco Salvo Lobbundo ha scritto alla direzione dell'agenzia di riscossione per chiedere un incontro urgente Il sindaco di Partinico Salvo Lobbundo scrive ai vertici della Seirit per cercare di scongiurare il rischio che la struttura di Partinico apra una sola volta a settimana a partire dalla metà di giugno come annunciato dalla direzione delle sattorie di Partinico La direzione generale del comune ha già predisposto una lettera per chiedere un incontro ufficiale con la direzione della Seirit mentre il primo cittadino di Partinico ha dato mandato di convocare una riunione con i sindaci dei comuni che rientrano nel bacino di utenza dello sportello Seirit di Partinico e cioè Balestrate, Trappeto, Terrasini Cinisi, Montelepre, Giardinello San Giuseppe Iato, San Cipirello e Borgetto Nei giorni scorsi l'avviso davanti alla bacheca della Seirit che ha annunciato la riduzione drastica delle aperture settimanali ha allarmato cittadini ed organizzazioni di categoria che hanno chiesto un intervento immediato da parte del sindaco Poche parole lapidarie scritte su un foglio bianco sono bastate a creare non poca preoccupazione fra i cittadini C'è scritto dal 7 giugno la struttura resterà aperta a Partinico solo il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.45 alle 15.45 Ho appreso ieri la notizia e ho dato subito mandato agli uffici di scrivere una lettera approfondita sui disservizi che provocherebbe una decisione del genere in tutto il comprensorio da inviare ai vertici della Serit con cui il comune chiede un incontro urgente sottolinea il sindaco Lobbiundo parallelamente ho chiesto di convocare tutti i sindaci del comprensorio servito dallo sportello di Partinico per coinvolgerli direttamente una sola apertura settimanale provocherebbe infatti gravi disservizi per i cittadini e le aziende per questo urge avviare un confronto con la Serit assieme a tutti i comuni del comprensorio per mettere in campo soluzioni concrete che ci aiutino a scongiurare questa eventualità faremo pressioni conclude il sindaco Lobbiundo per ottenere un primo incontro già questa settimana al via oggi il Grand Tour Targa Florio la manifestazione giunta alla quinta edizione dunque eccoci alla partenza del Grand Tour internazionale Sicilia Targa Florio che cosa ci aspettiamo da questa quinta edizione? ma dai presupposti di oggi ho visto tanto entusiasmo tra i concorrenti oggi li abbiamo portati a Palazzo dei Normanni la visita a Palazzo dei Normanni la visita della Cappella Palatina con una bravissima guida quindi credo che siano tutti molto soddisfatti ma soprattutto molto motivati di trascorrere tutti quanti insieme in armonia questa settimana di vacanza che cosa ci aspettiamo da questa quinta edizione del Grand Tour internazionale Targa Florio io mi aspetto di conoscere Sicilia visto che non la conosco quindi faccio tutto il giro per bene e poi voglio farmi la corsa sul vecchio circuito per me è molto importante di vedere ancora Palermo perché sono tedesco sono fascinato del Palazzo dei Normanni della storia delle Staufer della storia delle Normanni per me è sempre un evento molto importante e mi trovo molto bene in Sicilia tutto quello che è successo fino adesso è già stato organizzato magnificamente e ci aspettiamo di vedere un paese come la Sicilia che è straordinaria ma è già la seconda volta quindi mi aspetto ogni cosa bella divertimento buona tavola meraviglie da vedere l'aspettavo da un anno o due questa partecipazione e se le premesse sono queste dovrebbe essere magnifica e io mi auguro che loro capiscano che questa è una terra baciata da Dio e che tante storie create sulla Sicilia non sono vere e che la Sicilia merita di essere visitata e di essere amata la Sicilia e i siciliani rispetto alla scorsa stagione balneare a Mondello dal prossimo 15 giugno ci saranno lungo il litorale meno cabine e più spazi destinate all'area attrezzata la società Italo-Belga che gestisce da sempre il tratto di spiaggia più importante del Golfo ha deciso di ridurre di 70 unità le cabine quest'anno saranno lungo tutto il tratto di arenile in concessione non più di 900 soltanto il 60% della battigia sarà attrezzata con sdraio e ombrelloni mentre il resto della spiaggia sarà occupato dalle cabine in questi giorni si sta completando l'installazione per avere tutto pronto entro venerdì 15 giugno quando scatterà la stagione balneare che come noto si chiuderà poi nei primi giorni di settembre bene è tutto per il momento grazie per la cortesa attenzione arrivederci alle prossime edizioni grazie a tutti grazie a tutti